Dovico Adolfo, posticipo di questa giornata, vi vede affrontare in trasferta la capolista Modena, ovviamente partita molto difficile, come ci arrivate? Ci arriviamo carichi sicuramente, consapevoli che comunque affrontiamo una delle squadre più forti del campionato, in questo momento in grandissima forma, carica di non so quanti successi consecutivi ma davvero stanno giocando una grande pallavolo, noi sappiamo che non abbiamo nulla da perdere e quindi andremo lì carichi per provarci a vincere. Loro sono ovviamente forti in tutti i fondamentali, però secondo te qual è il vero punto di forza di Modena? Difficile trovarlo perché sono veramente forti in tutti i fondamentali, diciamo che battuta e muro sono organizzati molto bene, si vede la mano di Lorenzetti che prepara ogni settimana questo fondamentale, quindi diciamo che non hanno un punto debole. Anche a livello morale però quanto vi serve il successo ottenuto con Monza, il primo successo da tre punti? Lo attendavamo da parecchio tempo, ci siamo riusciti con Padova però il successo da tre punti lo aspettavamo, lo volevamo a tutti i costi, l'è arrivato e siamo molto contenti per questo, ci dà molto morale e appunto ci dà molto carica per questa giornata a Modena. Giocherete in uno dei tempi della pallavolo italiana tra le altre cose? È sempre un onore, è molto bello giocare a Modena, uno dei campi più importanti della Serie A e niente, noi non dobbiamo aver paura sia del campo che del pubblico che della squadra, dobbiamo essere tranquilli e giocarcela senza nulla da perdere. Tra gli avversari è anche Matteo Piano che fino allo scorso anno era vostro compagno di squadra, emozioni particolari? Ritroviamo un amico, un compagno di squadra con cui abbiamo condiviso una grande stagione l'anno scorso, sono contento di ritrovarlo lunedì sera e speriamo di batterlo dai diciamo.